E' quasi tutto esaurito per la visita del 14esimo Dalai Lama a Messina. Tenzin Ghiazzo, premio Nobel per la pace atteso per domenica 17 settembre al Teatro Vittorio Emanuele, ha fatto registrare la vendita di quasi 800 biglietti in prevendita a poco più di una settimana dall'evento. Tema dell'incontro per il quale è previsto il sold out con la vendita dei rimanenti 42 biglietti, la pace è l'incontro tra i popoli, un'opportunità per l'evoluzione dell'umanità. Al Dalai Lama verrà conferita l'onorificenza della città metropolitana di Messina in qualità di testimone di pace e solidarietà nel mondo e come riconoscimento del suo impegno a favore del dialogo, della pace e del suo messaggio di fratellanza universale, teso all'affermazione dei valori di libertà, di non violenza e dei diritti umani. Dalle 9 e sino alle 11.30, sua santità terrà due lezioni, una su etica compassionevole e interdipendenza e una relativa all'attività educativa e l'addestramento della mente, la via più efficace per lo sviluppo delle coscienze. Maggiore disponibilità ai ticket dovuta all'elevata capacità della struttura ha invece la visita prevista per il 16 settembre al Teatro Antico di Taormina. L'accesso ad entrambi i teatri sarà consentito fino ad un quarto d'ora prima dell'ingresso del Dalai Lama. Intanto Messina si prepara il gran giorno con sette giorni in Tibet, una rassegna interamente dedicata alla causa tibetana con mostre fotografiche, proiezioni, incontri e reading. Organizzato dall'associazione culturale Human in collaborazione con gli amici del Fortino e il Cantiere dell'Incanto, la manifestazione si svolgerà al Parco Ecologico Forte Sanyakidru da oggi e sino a venerdì 15 dalle ore 17 alle 21.